gentili telespettatori buona giornata mentre giorgia meloni scrive il foglio e riportano gli altri giornali vorrebbe starebbe valutando la privatizzazione del 50 per cento della rai messa sul mercato per abbattere il debito di mezzo oltre mezzo miliardo e cambiare la narrazione di tele meloni e consegnare la rai al mercato e non più alla politica che sarebbe cosa buona e giusta perché insomma la rai prima di sinistra poi di destra non è servizio pubblico ma è al servizio di chi governa come dice la legge dello stato fatta da renzi nel 2015 quindi colpo di scena il 50 per cento della rai sul mercato punto di domanda sarà vero beh questo comporterebbe un un problema nel nell'esecutivo allora ci ricordiamo che facciamo allora quello che vi sto per dire ricordatevi questo a buon intenditor poche parole cercate di leggere tra le mie parole in modo completo allora arriva l'idea di fare la tassa sugli extra profitti delle banche la famiglia berlusconi a una banca l'idea del governo di tassare gli extra profitti sulle banche quando al governo viene in mente questa cosa striscia la notizia tira fuori i video di giambruno caos rapporto tra i due finito tassa sugli extra profitti diventa facoltativa opzionale in effetti poi nessuna banca ha mai pagato un euro di extra profitti collegate i puntini quindi la meloni ha una separazione nella sua vita sentimentale a causa della televisione dei berlusconi la tassa sugli extra profitti non va a buon fine si dice che ci fossero altri o altri video e altro materiale su giambruno che poi non è mai uscito dopo la sospensione e l'aver fatto diventare facoltativa la tassa sugli extra profitti delle banche oggi si arriva a salvini che propone di togliere il tetto per le pubblicità in rai e quando nomina e compone questa frase togliere il tetto delle pubblicità in rai arriva pier silvio berlusconi arriva marina berlusconi all'improvviso si interessano di politica e forse italia non va bene e vanno a pranzo con tagliani e di qua ci vuole un partito diverso un partito di qui un partito di là un partito di su e un partito di giù come mai questo improvviso interesse per la politica dei berlusconi ce l'hanno nel dna il papà grande politico anche loro per eredità genetica piace la politica a parte che al padre io sono convinto che piacesse la politica tra virgolette perché doveva difendere i suoi interessi economici e scese in politica oggi salvini nomina la cancellazione del tetto della pubblicità in rai e i berlusconi arrivano improvvisamente in politica forza italia non va bene cambiamo di qua di là perché per far presente a salvini e meloni che sono loro che comandano in forza italia sono loro che hanno pagato gli oltre 100 milioni di debiti quindi sono loro che hanno le chiavi del partito sono loro che hanno questo partito che regge il governo perché senza forza italia non ci sono i numeri per governare quindi come dire attenzione noi comandiamo forza italia noi rimproveriamo tagliani noi vogliamo un partito diverso ma potremmo anche volere la fine del del governo perché e lì pier silvio berlusconi arriva a parlare della privatizzazione della rai non della scusate del 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 tetto della pubblicità che salvini vuole togliere per evitare il canone agli italiani e poter far più pubblicità in rai allora tu arriva pier silvio berlusconi dicendo che è una roba assurda quella che propone salvini perché porterebbe migliaia di licenziamenti il servizio pubblico non sarebbe più servizio pubblico tutta una tiritera perché perché se togli il tetto la pubblicità in rai la rai avrebbe poi più pubblicità e dove la prende questa più pubblicità la prende da da media dal 9 dalla 7 quindi toglie pubblicità agli altri quindi gli altri fanno meno fatturato meno fatturato meno persone al lavoro in quelle aziende quando pier silvio parla di migliaia di licenziamenti non certo il rai ma nelle altre aziende toglie il tetto della pubblicità e arriva la famiglia berlusconi in politica forza italia non va bene a far capire chi è che comanda davvero chi dà le carte beh mettetevi nei panni di giorgia meloni che non ha nulla da perdere il suo governo è avviato sta facendo le cose si è trovata una separazione grazie a mediaset la sua la tassa sugli extra approfitti sulle banche non è stata poi fatta i berlusconi che arrivano immediatamente in politica perché si vuole togliere il tetto alla pubblicità in rai e quindi arriva arriverebbe la meloni con un colpo a sorpresa privatizziamo la rai che significa automaticamente togliere il tetto alle pubblicità che sia un modo del presidente del consiglio per restituire la gentilezza avuta con i video a striscia la notizia sul compagno che sia arrivato il momento del conto il conto grazie che sia arrivato il momento del conto mi avete rovinato la famiglia e adesso vi sistemo io volete fare il cadere il governo fate pure fate pure vedremo poi gli italiani che cosa penseranno di forza italia quindi la privatizzazione della rai è la resa dei conti con i berlusconi il conto grazie per la gentilezza di striscia la notizia nel rovinare la sua vita personale perché gliel'hanno rovinata è che ne pensate tan 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 arrivederci a tutti e grazie